Musica 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 Ok ma che è successo alla fine poi andiamo a vedere non ha la minima intenzione di andare in mezzo a casa no, non è quasi finito a casa sto facendo solo un video si puoi andare si puoi andare in mezzo a casa si puoi andare in mezzo a casa si puoi andare in mezzo a casa